Chiudete gli occhi. Gli occhi a volte ingannano. Non fidiamoci di loro. Ditemi che cosa vi viene in mente. Vita. Equilibrio. Io vedo fuoco. Qualcuno sta uccidendo i Jedi. Non ha senso. Cos'è accaduto? Ho sentito l'oscurità. Qui non si tratta di bene o male. Qui si tratta di potere. E di chi è autorizzato a usarlo. Che cos'è?